Siamo riusciti ad esprimere comunque una buona pallavolo, soprattutto nel secondo set. Ci è mancato sempre quel qualcosa in più, nel senso che arriviamo, siamo avanti, commettiamo qualche errore di troppo ed è un margine che poi dobbiamo comunque col tempo cercare di limitare il più possibile. Perché è un peccato, perché stiamo lavorando bene, abbiamo tutte quante fiducia, andiamo avanti a testa alta nelle prossime gare, più cariche che mai, veramente. Mi è venuta la febbre a 38,5 che non mi veniva da quando avevo 16 anni, probabilmente, però pazienza, sono cose che capitano. Comunque sì, siamo riusciti a tenere il campo. È un peccato, perché anche nelle scorse partite potevamo sempre fare qualcosa di più, soprattutto ieri sera. Però io penso che la strada è ancora lunga, la strada è lunga e dobbiamo solo lavorare, dobbiamo avere fiducia in noi stesse e come gruppo, cosa che c'è, solo che richiede del tempo, ovviamente.